e era ubriaca appunto, aggrava la situazione ma non dà l'aggravante per il fatto che siano stati loro a farla ubriacare che è un'altra cosa in più, ma non significa che il reato non venga condannato, non solo siccome c'è confusione su quanto la ragazza quando ha denunciato il fatto ha detto perché era effettivamente ubriaca nel primo processo le dissero anche ah non conta niente quello che dice era ubriaca e invece la Cassazione dice non fa niente se lei ha detto di sì, era ubriaca e quindi è più grave la colpa degli aggressori quindi esattamente il contrario, Spanish Caravan, The Doors Grazie a tutti